Terza parte della ventesima lezione dell'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria. Vediamo adesso una proprietà importante della trasformata di Fourier che è quella che ci dice che non è possibile localizzare in un intervallo limitato sia il supporto di una funzione che il supporto della sua trasformata. In particolare abbiamo che se una funzione decade rapidamente all'infinito allora necessariamente la sua trasformata di Fourier non si può annullare in troppi punti quindi non può essere localizzata in intervalli limitati. Vediamo la proposizione che descrive in dettaglio questa proprietà e poi vediamo le sue conseguenze. La proposizione è la seguente sia f una funzione di L1 tale che abbia all'infinito un decadimento di tipo esponenziale ovvero esistono delle costanti c, t ed alfa che prendiamo positive per le quali sia che f di t in modulo è controllata da una costante per la funzione esponenziale e alla meno alfa t e questo per quasi ogni t in un intorno di infinito determinato dalla t maiuscolo. Quindi con valore assoluto di valore maggiore di valore 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 di di meno t e dopo t decade almeno in modo esponenziale. Se abbiamo questa ipotesi qui e supponiamo, chiamiamo sia l'insieme e l'insieme degli zeri della trasformata di Fourier di f, quindi l'insieme dei punti omega in R, tale che la trasformata f cappuccio di omega sia uguale a zero. Allora, se f non è identicamente quasi ovunque nulla, allora ogni punto di, diciamo così, se f non è identicamente nulla, ogni punto di E è un punto isolato o eventualmente E non ha punti, quindi potrebbe essere vuoto, cioè la f cappuccio non sia nulla, ovvero questo cosa significa? Ovvero, questo significa che se E possiede punti di accumulazione, di accumulazione, allora necessariamente F è nulla, quasi ovunque e quindi se è nulla la trasformata sarà nulla e quindi E sarà uguale a tutto R, cioè la trasformata si annulla su tutto R. Come dimostriamo questa proprietà? In qualche modo sfruttiamo il collegamento fra la trasformata di Fourier e la trasformata di Laplace e sfruttiamo il fatto che sappiamo che la trasformata di Laplace è una funzione olomorfa e quando una funzione olomorfa si annulla su un insieme che possiede punti di accumulazione, allora necessariamente si annulla ovunque. Questa è una proprietà che abbiamo visto delle funzioni olomorfe, quindi per fare il collegamento con la trasformata di Laplace scomponiamo il nostro segnale nella unione di due segnali causali, quindi siano, chiamiamole F1 di T, la parte causale del segnale F di T, quindi F di T per T maggiore o uguale di 0 e 0 per T in minore di 0 e chiamiamo F2 di T invece è il segnale causale generato partendo da 0 e andando verso meno infinito, quindi facciamo F di meno T per T maggiore o uguale di 0 e 0 per T maggiore o uguale di 0. Quindi cosa stiamo facendo? Se abbiamo una funzione, se questa è la nostra funzione F di T, l'F1 è la parte è la parte per T maggiore o uguale di 0 della F di T. La F2 si riferisce alla storia passata che però viene rovesciata in modo da generare un segnale causale e questo implica che il nostro F di T si può scrivere come F1 di T più F2 di meno T. Se andiamo a fare la trasformata di Fourier di F, cosa otteniamo? F cappuccio di T sarà l'integrale, sarebbe l'integrale, facciamo l'integrale da 0 infinito di F1 di T per E, scusate le trasformate di Fourier non la calcoliamo in T, calcoliamo nel punto Omega. F1 di T meno I Omega T in DT più avremo l'integrale da meno infinito a 0, qui avremo F2 di meno T e meno I Omega T in DT. Cambiamo variabile, al posto di meno T usiamo T, quindi qui cambiamo segno alla T, quindi qui avremo più I Omega T, il DT diventerebbe meno DT ma dopo il meno infinito diventa più infinito 0, allora cosa facciamo? Mettiamo il più al DT e scambiamo i due estremi, quindi 0 va a finire sotto e più infinito va a finire sopra, quindi cosa ci troviamo? Ci troviamo, dopo quest'operazione, adesso cancello e riscrivo, ci troviamo l'integrale da 0 infinito di F2 di T e alla più I Omega T in DT, ma queste le possiamo interpretare come trasformate di Laplace, la prima trasformate di Laplace di F1 calcolata nel punto I Omega, il nostro Z adesso è I Omega e la seconda è la trasformate di Laplace del segnale F2 calcolato in meno I Omega. Inoltre l'ipotesi che abbiamo messo del decadimento esponenziale sulla F, questa ipotesi qua, si traduce su un decadimento esponenziale di F1 e di F2, quindi cosa otteniamo? Otteniamo che F1 di T è minore o uguale di una costante per E alla meno alfa di T, questo per ogni T maggiore di T e la stessa cosa vale anche per F2, e quindi questo cosa significa? Significa che la scissa di convergenza sia di F1 che di F2 è sicuramente minore o uguale di meno alfa, qui adesso il parametro è meno alfa. e quindi per quello che sappiamo sulla trasformata di Laplace, abbiamo che la trasformata di Laplace sia di F1 che di F2 calcolata in Z è olomorfa sulla regione dove la parte reale di Z almeno è maggiore di meno alfa. Adesso che relazione c'è fra la trasformata di F2 e la trasformata di Laplace? L'abbiamo scritta qua, quindi se adesso noi chiamiamo G di Z la trasformata di Laplace di F1 in Z più la trasformata di Laplace di F2 in meno Z questa è anche quella che viene chiamata, questa combinazione qui, trasformata di Laplace bilatera del segnale F. cosa abbiamo? Abbiamo che questa G è olomorfa su quale regione? Allora, la prima funzione è olomorfa quando la parte reale di Z è maggiore di meno alfa questa è la prima la seconda funzione, qui c'è meno Z, quindi abbiamo la parte reale di meno Z maggiore di meno alfa. Queste due condizioni insieme possiamo scrivere chiedendo che la parte reale di Z sia maggiore di meno alfa e minore, se qui cambiate di segno, dovete cambiare di segno anche alla disuguaglianza minore di alfa. Quindi ecco che abbiamo vediamo che quindi G è olomorfa G di Z è olomorfa su una striscia verticale dei punti che hanno parte reale compresa fra meno alfa e alfa questa striscia verticale contiene l'asse immaginario e la formula che abbiamo appena ricavato per la trasformata di Fourier ci dice che la trasformata di Fourier di F in omega non è altro che G calcolata in I omega cioè G calcolata sull'asse immaginario quindi abbiamo che F cappuccio di omega è uguale a G di I omega l'insieme E l'insieme dei punti dove la F cappuccio si annulla corrisponde poi a un insieme sull'asse immaginario dove la G si annulla quindi G si annulla nei punti dell'insieme che possiamo chiamare IE ovvero l'insieme degli I omega dove omega sta in E cioè prendiamo l'insieme E sull'asse reale e lo ruotiamo e lo andiamo a mettere sull'asse immaginario ma essendo G olomorfa se G no se IE ha punti di accumulazione cioè se ci sono dei punti che non sono isolati tra i punti in cui G si annulla allora necessariamente G essendo l'omorfa se si annulla in un insieme che possiede punti di accumulazione all'interno del dominio necessariamente G deve essere identicamente nulla perché le funzioni olomorfe hanno solo 0 isolati o sono identicamente nulle e quindi questo cosa significa? e dunque F cappuccio è identicamente nulla ma la trasformata di Fourier è iniettiva e quindi per per l'iniettività della trasformata di Fourier l'unica funzione L1 che ha trasformata nulla deve essere la funzione nulla e quindi per l'iniettività di trasformata di Fourier F è una funzione nulla in L1 e sappiamo che le funzioni in L1 sono identificate quasi ovunque e quindi F di T è uguale a 0 quasi ovunque su R ed ecco dimostrato quindi il nostro la nostra proposizione come corollario di questa proposizione se F è una funzione di L1 e sia F che la sua trasformata si annullano fuori da intervalli limitati cioè esiste un intervallo limitato esistono due intervalli limitati tale che la F sia nulla fuori dal primo e la F cappuccio fuori dal secondo allora F è identicamente nulla questi intervalli limitati non sono qualsiasi cioè fissati due intervalli limitati abbiamo che la F si annulla fuori dal primo e la F cappuccio si annulla fuori dal secondo ovvero quello che dice questo corollario F e F cappuccio non possono avere supporto compatto per noi vuol dire compatto vuol dire limitato non possono avere supporto compatto ovvero per noi limitato non possono entrambe avere supporto compatto limitato se F è diversa dalla funzione nulla e la dimostrazione è immediata dalla proposizione precedente perché se F si annulla fuori da un intervallo meno T T limitato se si annulla fuori da un intervallo limitato e allora sicuramente F di T è minore o uguale di e alla meno T per T maggiore e alla meno modulo di T per modulo di T maggiore di T grande qui possiamo metterci il modulo di F è zero quindi sicuramente minore dell'esponenziale quindi abbiamo decadimento esponenziale con C uguale a 1 e alfa uguale a 1 e inoltre se F è cappuccio poi si annulla fuori da un intervallo meno omega omega abbiamo che quindi l'insieme degli zeri della funzione della trasformata di Fourier questo qui sicuramente contiene tutti i punti fuori cioè contiene tutto R meno questo intervallo dove eventualmente non è zero e questo e quindi contiene punti di accumulazione perché contiene degli interi intervalli e dunque per il lema precedente quindi per la proposizione precedente F dovrà essere nulla ok